Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Abbassa la caccia, alza, abbassa, alza, ok, piano piano, tutta forza l'uomo, vai, vai, che ti porto fuori, piano piano così, vai, vai, non gli dare tregua, non gli dare tregua, forza, forza, non gli dare tregua, vai Dani, quando vedi che parte, non tirare, assecondalo, perché sennò rompiamo, noi, vai, 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 Siamo arrivati in un'esperienza Caggia piano piano. Piano piano piano. Piano piano piano. No, Baria, sei il numero uno, Baria, sei il numero uno, cazzo. Ma un marino che mostro, che cazzo, cazzo che mostro. Beh, sei un Dio, sei. Bella, Davide, bella, Davide, bella, Davide. E' da bestia. Oh, divertente. Guarda, guarda, guarda che bello animale che c'è con te. E' una vittura e ora una, comunque. Eeeh. E' una bestia. Canna. Ok, alza, vai di canna, alza. Piano, piano, piano. Se tira, lascialo tirare un po'. Piano, piano, piano. A seconda, la fusta, piano. Piano, piano. Vai, alza. Possa, piano, piano. Bravissimo. Vai. Comanda tu, no, il pesce. Devi comandare tu. Se lei sta venendo, perché sta canna è così? Più in città, forza. Appoggiatela sul busto. Mettitela qua. Così, bravissimo. Sempre, passa canna e alzi. Alzi. Rascinatela, alzando la canna, no, col motinello. Se vedi che fa la buca, la lascia qua. Mettitela. Canna, 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 canna. Ma vedi che se ne sta andando, non se vuoi. Piano, vieni. Piano. Sempre di canna. Alza di più quella canna. Ti fermi troppo presto. Se ne sta andando. Quindi, fammela andare. Brava. Piano piano, premura noi non ne abbiamo. Piano piano, ok? Incentrato. Piano piano, non devi perdere la trazione quando abbassi la canna. Mai perdere la trazione col pesce, mai. Vai. Qui continuo su qua, tutti i giorni. Sempre senza strappare, assecondala sempre. Premura, premura del pesce non ne abbiamo. Calma, 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 basta. Stai indietro, tu, via, calma, va indietro. Vai, vai, vai. Piano piano, piano piano, non dalla trascinare, non devi uscire la testa dall'acqua. Calma a basso. Piano piano, piano piano. Basso. Mamma mia! Mamma mia! Mi sto stendendo. Mi sto stendendo. Un grande. Un grande. Mamma mia, quant'è grassa. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, non so che devo fare. Non so che devo fare. Spostata. Porca puttana, quanto è grassa. No! Maria! Mamma mia, male, mi sto stendendo. Male, mi sto stendendo. Un grande. Un grande. Un grande. Un grande. Mamma mia, quant'è grassa. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Non so che devo fare. Un grande. Mamma mia, quant'è grossa. Oh, madonna. Mamma, quant'è grossa. Malora, la bestia è. Guarda il cuore come mi sta battendo. Non ci posso credere, impare. questa è grossa porca, sto piangendo dalla felicità sto piangendo mi devo metterlo queste sono le fallover e vai e vai ok, tutte e due in vasca assurdo assurdo cioè veramente questo era un vascio i giocattolini che ho preso fino ad oggi grande ragazzi contenti i due bei vasci sono usciti bellissimi esperienza magnifica buongiorno che giornata necidiana eh eh no ah 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 Grazie a tutti.